però trapega tu dico io comba 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 si civa un zemmola era diverso comunque ma non lo sapendo comba è un zemmola non lo sapendo eeeh comba comba ha presenza e potenza ma chi dove città lo virus? l'ho visto? città lo virus ancora quando aveva l'andovirus guarda 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 l'andovirus che do virus? che do virus? che do virus? che do virus se la chiappa? non è un genepone, non è vaccino io sto cercando di farla crescere questa cosa di farla crescere crescere economicamente deve crescere deve crescere questa cosa e credimi tra il tuo il tuo appoggio e chi dica io giusto perché il rispetto a te è il sogno più libero devo farla crescere questa cosa è una soddisfazione che io mi devo prendere infatti oggi mi viene a trovare mi viene a trovare un amico che mi porta un panettone denaro ehm ci disse vedi che l'anno nato è stato lontano quando ha fatto la tua e vedi che l'anno venente ti voglio vicino chiuso quando uno vedi davanti ci disse un toro e una pecora ci disse quale forza sceglie tu gli dice chi ha dato il toro e allora ci si lascia lasciare la pecora spero che il segno rosso ne metta su mano divena ben gordo e che ne fa proseguire che sono onesti sofferenti in un modo o nell'altro e il segno rosso la mette nella mano e mia una fabuzza si sparta a metà con l'amico mio come la metto io come la metto l'amico mio l'amico mio